Uno sguardo sull'arte nella Shoah, 20 opere della collezione di Yad Vashem realizzate da artisti ebrei tra il 1939 e il 1945. Una testimonianza di resistenza spirituale che rifiuta di arrendersi alla negazione di ogni diritto, fin anche quello alla vita, lottando così contro il processo di disumanizzazione perpetrato dai nazisti.